Musica Etg più sindaco, bentornato ad Alessandro Rapinese, primo cittadino di Como. Ovviamente come sempre spazio a tutte le domande, ma parto io però da un tema che tra l'altro è già oggetto di domande anche dei telespettatori, stiamo parlando delle case comunali, la decisione di trasferire la gestione all'Aler. Tra l'altro tra chi scrive ad esempio da Via Spartaco ci sono persone che sono scettiche o addirittura contrarie su questa soluzione, però giustamente la lasciamo spiegare. Allora di fatto questo ad esempio è un modo di lavorare della giunta rapinese, nel senso che è da mesi che analizziamo il tema, è da mesi che studiamo dati, è da mesi che verifichiamo quali potrebbero essere le soluzioni da adottare e siamo arrivati dove nessuno negli scorsi 30 anni è arrivato, nonostante se ne parlasse da tantissimo tempo, ovvero con un progetto di riqualificazione, di miglior gestione del patrimonio immobiliare dell'edilizia residenziale pubblica, del SAP. È un tema importantissimo, nel senso che noi abbiamo più di 790 immobili, 339 immobili con destinazione non residenziale, di conseguenza superiamo i 1000 ed è evidente a tutti che il Comune di Como in questi anni non ha brillato in quanto a gestione. Ci sono degli strumenti che ti possono offrire delle società che possono andare incontro a quelle che sono le esigenze. Non si contano le segnalazioni dei nostri residenti nelle case di edilizia residenziale pubblica che non hanno seguito, semplicemente perché il Comune è in una condizione per la quale non riesce a garantire questo servizio e quindi cosa fare? Continuare con la strada sbagliata che è stata utilizzata negli ultimi 30 anni e quello che era un patrimonio che i nostri avi ci hanno lasciato, che era un patrimonio di valore, di qualità è diventato un fardello insostenibile, continuavamo così perché la strada era quella pur di non prendere decisioni coraggiose, fare gli ignavi che non si assumono responsabilità, fanno finta di niente, non prendono posizione, è andata avanti così per 30 anni, continuiamo nel declino per altri 5. L'idea è stata verificare cosa succedeva nelle altre province e devo dirle che i dati sono agghiaccianti perché se uno va a verificare cosa è successo nelle altre province che hanno collaborato con ALER vede ad esempio che ALER potendo fruire di parecchi di quegli incentivi che lo Stato ha dato a questi enti trova che a Monza, Lecco, in giro per la Lombardia ci sono un sacco di comuni che si sono visti ristrutturare gratuitamente Perché si sono mossi in anticipo con questa scelta? No, 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 non si sono mossi in anticipo, si sono mossi nel tempo giusto, siamo noi che siamo in un ritardo spaventoso e quindi è sufficiente girare per le nostre abitazioni e vedere che ad esempio agli inquilini non viene garantito un servizio che ALER garantisce E tra l'altro una su tre è sfitta, un immobile su tre è sfitto Sì, ma il problema non è neanche quello, il problema è che non sono quelli di cui lei parla sono immobili non agibili Il vero problema sono gli immobili che diventeranno non agibili appena verranno riconsegnati e questo dato è drammatico Noi non abbiamo la capacità economica di poter intervenire, è evidente Di conseguenza abbiamo uno Stato responsabile che finanzia le ristrutturazioni Semplicemente noi abbiamo buttato milioni e milioni di euro che ogni anno potevamo intercettare Facendo gestire i nostri immobili a soggetti specializzati Perché tanto come dormiva, nel frattempo gli immobili si distruggevano Utilizzavano un po' di fondi ridicoli, ridicoli, stanziamenti ridicoli Per cercare di arginare un problema Ma era come fermare una perdita d'acqua di 10 cm e usare un cerotto Hai messo un cerotto ma non serve a niente perché la vetustà era progressiva ed era devastante Di conseguenza abbiamo ritenuto di muoverci il più velocemente possibile Devo dire che in questi sette mesi dall'inizio del mandato non si contano gli sforzi che abbiamo fatto Non tanto per intervenire e mettere quel famoso cerotto ma per capire come muoverci Siamo partiti come la chiamo una mossa tenaglia Nel senso che abbiamo preso i contatti con Aler e dall'altro lato abbiamo iniziato a cercare Di digitalizzare la maggior quantità di dati per avere una cognizione Abbiamo dato dei servizi, abbiamo aperto delle parti del nostro software gestionale L'abbiamo ampliato per far sì che nel giro di due anni si abbia una perfetta mappatura Non solo perché tra l'altro non abbiamo risolto il problema Abbiamo avviato seriamente una relazione con Aler Non è un caso che il presidente di Aler si sia congratulato Non è un caso che in tutte le province, in tutti i capoluoghi di provincia, a Lombardi Questa convenzione esiste a Como no perché a Como si pensava ad altro probabilmente A poltrone, a cose strane È chiaro sindaco, l'abbiamo detto, adesso rispondiamo anche a qualche altra domanda Ci sarebbe tanto altro da dire È un tema importante e lo abbiamo approfondito, gli abbiamo dedicato spazio Giustamente, è un tema importante Pronto? Buonasera È caduta la linea, mi scuso Allora intanto, Camnago Volta attende da vent'anni la messa in funzione degli idranti A tutela della sicurezza degli abitanti Sulla strada di pertinenza del comune di Como Tempistiche? Le tempistiche, la verità è che con uno di questi signori Se il suo cognome inizia con l'attio è interagito Non è firmato Esatto, vabbè, se guarda Ah, non è firmato Con uno di questi signori ho detto che non è più una questione politica Nel senso che l'ho passato la pratica al dirigente Il dirigente mi ha detto che era un buon punto nell'interazione Lì era una questione anche di gestione degli idranti Antincendio Ed è un tema aperto Sulla quale l'amministrazione si è mossa La politica si è mossa Ho ricevuto anche rassicurazioni Probabilmente nel disastro delle cose Che dobbiamo fare quotidianamente Però dovrebbe, è un tema sollevato Lo solleciterò Tra parentesi l'ho già sollecitato in settimana Perché un signore si era fatto sentire Spero che sia lo stesso Nel senso che comunque sia nell'area Domus Maria In quella zona lì c'è questo problema In fase di risoluzione Speriamo Pronto o buonasera? Pronto o buonasera? Sono Rossi Fabio Kentino Strestre Allora per prima cosa vorrei essere Vorrei contraturarmi finalmente con il sindaco Che rispetto al discorso delle case date in gestione area Finalmente qualcosa si sta muovendo a pro E questo è tanto di cappello Volevo però fare un appunto al signor sindaco Perché settimana scorsa ci siamo sentiti quella trasmissione E ero riuscito tra virgolette A strattare la promessa di una visita al campeggio Che purtroppo non è venuta Io ho provato a mettermi in contatto con la segreteria più volte Però non sono stato rispettato Rossi Volevo sapere se riesco a far venire il sindaco Per confrontarsi con le persone No Rossi le prego Allora grazie intanto E lasciamo rispondere il sindaco Allora tra l'altro io ho un fogliettino Ho un post-it che ha messo la mia segretaria A chiamare Rossi Fabio E' stata una settimana devastante Nel senso che purtroppo gli impegni sono tantissimi La faccenda del camping come potrete immaginare E' una faccenda tosta, seria E che ha visto impegnati tutti gli uffici A partire praticamente tutti i dirigenti Dai servizi sociali al commercio All'urbanistica per quelle che sono gli aspetti L'edilizia Insomma il camping direi che come tema è stato super monitorato Nello specifico io per quanto possa essere interessato Non ho quelle competenze tecniche che servono per gestire una situazione del genere I servizi sociali si sono mossi Una visita diciamo Non la escludiamo ma non è insomma No ma la verità è che ci vado anche volentieri Mi sembra evidente che io sia un sindaco che è in giro per strada Cerca di incontrare i cittadini eccetera Però sono anche un sindaco Ce ne vorrebbero cinque insieme in questa città probabilmente Mi scuso comunque se non è stata questa settimana Volevo dire però e non è una polemica Che ho detto che l'avrei incontrato Ma non ho detto quando nel senso Mi auguro settimana prossima di potercela fare Però mi credo È un problema È un problema e sono anche tante le telefonate Le quali non riesco per il tramite del mio segretario A rispondere Perché appunto ripeto Ci siamo 84 mila abitanti E c'è un solo sindaco Giustamente tutti hanno l'ambizione Il mio cellulare non ho cambiato numero Da quando sono diventato sindaco Quindi impazzisce le telefonate Ci provo E anche questo è un impegno che ho preso Cioè non è che butto via il numero Sparisco Poi c'è sempre lo sportello in cui incontro i cittadini Sì stamattina per via Non c'è stato Perché eravamo impegnati Sentiamo un'altra telefonata Comunque mi scuso con Rossi Fabio E cercherò di Pronto o buonasera? Buonasera signor sindaco Buonasera Vorrei sopporre tre problemi Che riguardano la strada dove abito Allora C'è il segnale di limite Mi dica anche qual è la strada La via signora Mi dica La via qual è? Via Carso Ok C'è il segnale di limite di velocità di 30 km all'ora Che nessuno rispetta Allora lì non è un problema la via Mi sa che Stappene e Leclerc Non lo so Lei ha già detto che i dossi non si possono mettere dappertutto No infatti Però le chiedo se è possibile mettere un gun rail Dove la larghezza del marciapiede ovviamente lo permetta Per proteggere i pedoni Perché come lei penso già sa C'è da qualche anno una scuola in questa via E quindi oltre al flusso normale dei pedoni Si è aggiunto anche quello degli studenti La seconda questione sono Le fermate dei bus che in entrambi i sensi di marcia Ci sono in corrispondenza di via Noseda Ma non ci sono le strisce pedonali E attraversare la strada Con appunto i festappene e Leclerc Che ci sono in giro È pericoloso Per cui le chiederei di poter mettere le strisce pedonali E magari segnalare anche la presenza con dei cartelli Per i passaggi pedonali Ho capito bene Carso Via Carso ha detto signora vero? Ha detto via Carso Non è direttamente responsabile il comune Però sarebbe gradito un suo intervento Per sollecitare la messa in sicurezza dell'immobile Che credo che sia di proprietà dell'Università dell'Insulta Ho sentito che c'è un piano di riqualificazione Ma a parte tante belle parole Sono decenni che è in uno stato di rovina Grazie signora La fermo perché se no la facciamo troppo lunga Mi ricorda la via? Via Carso Via Carso, ok perfetto Grazie, lascio rispondere il sindaco Allora qui è uno dei temi Cioè quando ci si interroga sui 30 km orari Bisogna avere poi anche la capacità di far rispettare il limite Perché se no sono quei provvedimenti etici Nel senso che dice perfetto Abbiamo abbassato la velocità Ma sappiamo bene che molto spesso Non si riesce neanche a verificarli Il numero di pattuglie che ho è quello Devo dire che proprio questa settimana C'è stato un incontro Per cercare di mettere a sistema Altri strumenti di riduzione della velocità Il problema vero è che molto spesso Per esempio anche le telecamere Bisogna avere gli uomini per poterle seguire E poi bisogna avere una gestione perfetta Però avete ipotizzato anche dei radar Se non ho capito male Sì, sì, sì E questo fa parte di questo progetto Che però deve essere integrato Nel senso che Quando spendo dei soldi per dell'hardware Io voglio che il servizio sia perfetto Se no non li spendo È come mettere delle telecamere In tutta la città o ovunque E poi non avere il personale Che le verifichi Avete già ipotizzato delle vie per i radar? Lei vuole che le dica Di che cosa stiamo parlando Visto che è un progetto Mi piacerebbe Io ci provo No, esatto È il suo compito da giornalista Ed è giusto così Diciamo che il mio compito è parlarsi Ricorda la prima sera Quando sono stato eletto Proprio fuori da Palazzo Cernezzi Ho detto poche parole Tanti fatti Allora c'è un poche parole I nomi delle vie dove ci saranno i radar No, questo fa parte dello studio Sono cose complesse Tant'è che se iniziassi a dare dettagli a Vanvera Sarebbe un problema Però il tema della signora Mi consente di dire Quello che è un progetto ben fatto Compri l'hardware Compri il software adeguato Di conseguenza valuti Quando vanno in scadenza Gli attuali contratti Ne abbiamo alcuni che scadono a tre anni Altre Dopodiché devi avere un servizio Garantito Di conseguenza del personale dedicato Che la pubblica amministrazione può procurarsi in due modi O lo contratualizza la stessa azienda In un pacchetto unico di servizio E questa secondo me è un'idea buona Perché è il servizio che quando viene pagato la pubblica amministrazione Non pago solo l'hardware E poi con i problemi di personale Ogni volta mi trovo a gestire servizi Monchi Magari mi manca una persona in un determinato ufficio E quindi inizio a fare lo spostamento Del gioco delle sedie Di conseguenza l'idea per dare un progetto di sicurezza completo Deve essere un pacchetto di hardware Software E personale dedicato appaltato In maniera tale che se si ammala qualche operatore O se ne va È compito dell'impresa Ma nel breve periodo sindaco Il guardrail per proteggere i pedoni E le strisce pedonali? Allora il guardrail senza nessun dubbio Adesso devo capire bene qual'altezza Poi parlava anche delle strisce Sì c'è pedonali all'altezza delle fermate E anche delle strisce Io stesso devo dirle che ogni volta che giro per la città Mi appunto Do la nota Via Carso Lo segniamo e controlleremo Quanto buonasera Puntualmente però devo dire Che le segnalazioni Che da qui mi arrivano Cerco di onorarle Che però in verità mi chiedo anche Se eticamente sia giusto Perché se lo faccio per dare consenso No diciamo che sia un problema reale Almeno l'abbiamo fatto No no ho capito Però la verità è che sono reali anche gli altri Che non mi vengono detti qui Però non è giusto che abbiano la gerarchia Ecco È tutto un problema Allora sentiamo un'altra chiamata Pronto buonasera Buonasera mi sentite? Sì prego Buonasera signor sindaco Solo una cosa Ognuno ha una sua visione Il discorso del punto unico di cottura Visto che secondo lei Il privato è meglio del pubblico I dipendenti comunali Impegati nella ristorazione collettiva Che fine faranno? Grazie Buonasera Allora Siamo a una esternalizzazione dei refettori Che è praticamente giunta al termine Nel senso che ne abbiamo già esternalizzati tantissimi E se qualcuno mi potesse dire Se qualche dipendente comunale è stato licenziato Questi qui sono luoghi comuni basati sul nulla Zero Anche perché procediamo lentamente Mentre le persone vanno in pensione Questo stiamo facendo E la prova ne sia Che questa amministrazione Ha già esternalizzato dei punti Quanti dipendenti comunali Saranno mai stati licenziati? Zero Ecco Sono queste affermazioni Che fanno capire Che non c'è un approccio oggettivo al tema Ma ideologico Via Spartaco Ne approfitto per chiedere Una delle ipotesi Sono stato chiaro Sono stato chiaro Quindi non ci sarà nessun licenziamento Ma si procederà con il punto unico di cottura Stiamo procedendo Ma il punto unico di cottura Il servizio sarà esternalizzato In toto Con un punto unico di cottura Ma è già esternalizzato il servizio In toto Nel senso che L'unica cosa è che qua arrivano Probabilmente queste persone Preferiscono Questi cittadini hanno tutto il diritto di esprimersi Ma preferiscono che succeda come oggi Che arriva il cibo dalla provincia di Milano Perché probabilmente non hanno capito Qual è la situazione attuale E si parla senza avere cognizione Ma lo dico con rispetto La situazione ad oggi È che un del cibo Sale su una macchinetta Tu 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 Fa l'autostrada Inquinando Arriva a Como Inizia a distribuirlo Ma non è cotto a Como Tranne quei pochi casi Dove ci sono quei refettori con cucina Che ogni volta ci presentano Dei problemi Dei difficoltà Perché abbiamo anche Dei difficoltà nella gestione Quindi la vostra intenzione È un punto unico a Como Che sia via Spartaco No, chi ha detto via Spartaco Che sia via Somigliana Mi scusi Ho sbagliato il diritto Ho sbagliato io la via Che sia via Somigliana O un'altra ipotesi O altro Ma questo qua è anche una cosa Un approccio direi geniale Per il semplice fatto Che chi sta facendo tutto questo Congeniando questo sistema È l'assessore al patrimonio Quello che io voglio È che mi ritrovo Al termine dell'esternalizzazione Un immobile nuovo Perché le aziende I punti unico di cottura Hanno una peculiarità Vengono controllati Da sei o settenti diversi Di conseguenza Non c'è quel deperimento Che normalmente avviene Negli immobili pubblici Dove non sono ben manutenuti Quando arrivano a fine ciclo di vita Sono ben manutenuti Di conseguenza Questo mi consentirà Di avere riqualificato Una zona della città Avere un immobile Che diventa mio E me lo pago Con gli stessi soldi Che avrei nel progetto Perché l'azienda Dovrebbe mettere a costo Ai cittadini Un immobile Che vada a affittare E allora mi piacerebbe Che lo costruisse In maniera tale Che faccio una capitalizzazione Per la mia città Di conseguenza Tengo un immobile Perfetto Vado a derogare Un servizio Non come da adesso Da Milano Ma qual è il sindaco L'ipotesi dei tempi Prego no Volevo capire L'ipotesi dei tempi Per quale anno scolastico L'ipotesi Qui Allora Lei si renderà conto Che a pochi passi da qui Inticosa Quando hanno cercato Di fare delle soluzioni magiche Non hanno considerato L'inquinamento del suolo Io penso che Rapinese Se un sindaco Talmente attento O meglio Forte dei miei 18-19 anni di esperienza Prima di fare una cosa Cerco di guardare dietro Che è successo Quindi cosa faccio Identifico un suolo Senza aver verificato Il sottosuolo E anche questa Mi sembra un'azione Estremamente responsabile Di conseguenza Appena abbiamo imbattito Il progetto Cosa abbiamo detto Ehi opere pubbliche Dimmi se posso Andare a costruire lì Esatto Perché se non è adatta lì Evidentemente Abbiamo un piano B Un piano C Un piano D Come fanno tutte le persone Normali Di conseguenza A Verifico il suolo B Faccio tutti i calcoli Di quello che deve essere Si esce con quella Che è la gara Vedremo Grazie a Dio Il sindaco non deve fare tutto Fa tanto ma non fa tutto Ci sono gli uffici Che considerano le leggi In relazione al servizio Che stiamo acquistando Da oggi Con il brum brum Che arriva da Milano Di conseguenza Eventualmente Vedranno gli uffici Come fare Se si potrà fare Una proroga Se si potrà avere Un servizio Nel periodo in cui Questo centro Prende la vita Tra l'altro Visto che non sono proprio Un sindaco Che se ne sta In panciolle A palazzo Sono andato a vedermene Un po' Di punti unici di cottura Ce ne sono Siamo stati ad Aosta Abbiamo girato Perché vogliamo capire Vedere bene Come funziona Quali sono le realtà Come si sono mossi Amministrativamente Gli altri comuni E non ce n'è uno Che tornerebbe indietro Uno Ma tant'è che nessuno Torna in questa direzione E questo qua È un problema Lo ribadisco Ideologico Molto chiaro Perché dal punto di vista pratico Non è che i lavoratori Che lavorano Al punto unico di cottura Vengono schiavizzati Con la frusta E se Ci fossero delle divergenze Saremo Ben attenti In fase di gara A far sì che A verificare E poi soprattutto Ad esempio I sindacati Oltre a preoccuparsi Del dipendente pubblico Che va benissimo E corretto E giusto Si preoccupino anche Del dipendente privato Perché se allora Stiamo certificando Che un dipendente pubblico Ha più garanzie Di un dipendente privato I sindacati Dovrebbero concentrarsi Su altro Per altro Molto chiaro Sindaco Sentiamo un'altra domanda Pronto o buonasera Pronto? Sì buonasera signora In diretta Buonasera Volevo Volevo parlare Sul sindaco La sta ascoltando Faccia subito la domanda Se vuole ci incontriamo Anche al bar Signora Non ho sentito In che via signora? Via Scuzzi Vicino alla scuola Dopo passato Ci sono degli altri Sono più alti Che abbiamo conferito Ad una società specializzata Di progetti antincendio Per poter intervenire Ringrazio i vigili del fuoco Che ci hanno assistito Ci hanno verificato Il progetto Ci hanno dato Dei suggerimenti Alcune prescrizioni Mi auguro Che in via Cuzzi La signora Oltre Giustamente A non sentire Il sibilo Dell'albero Che è troppo alto Possa avere Anche magari Dei ragazzi Che ricominciano A utilizzare la palestra Della scuola Per fare attività sportiva Lì parliamo di centinaia Di ragazzi Che sono a zonzo Certo Tanto per È chiaro Pronto? Buonasera Sì, buonasera Sono Sergio di Como Ci dica Niente Volevo fare Prima di tutti Complimenti al sindaco Perché si vede Tutti i lavori Che sta facendo in città È un grande Grande ragazzo Dica che non l'ho pagata Che non abbiamo Relazioni di parentela Se vi siete Non si d'accordo Noi non lo sappiamo Faccio anche una domanda Se no sembra Non siamo amici Assolutamente Ok, va bene Posso farti una domanda Discreta Vai Cosa voterai Per le prossime elezioni No, non possiamo Non possiamo Violeremo la legge Questa sera Non c'è ancora La parcondizione Ma no, non è corretto No, la ringrazio Ma no, non possiamo rispondere Non posso proprio Non la facciamo rispondere Non è una domanda corretta Allora Sindaco Invece questa è una domanda corretta Quando arriverà Il nuovo dirigente Alle opere pubbliche Per sbloccare La partita Piscina di Muggiò E bonifica Ticosa Allora Spero Sono sospeso Tra tenervi qui Un paio di giorni O dare la risposta Sincera Ma politica Ma c'è la via sincera La via sincera e politica È mi auguro breve Mi auguro a brevissimo Quello che sorprende Sono le tempistiche Di spostamento All'interno di pubbliche amministrazioni E tutto quello che è Però spero Spero a brevissimo Spero a brevissimo Ed è il mio primo pensiero E quindi nell'attesa Non ci sono novità Nemmeno sulla piscina Tra l'altro abbiamo visto Di nuovo Un vetro rotto Non so se ci sia stata Una traduzione No, no, quel vetro è rotto Da molto E tant'è che mi sono posto Il tema Nel senso che probabilmente Anzi, anzi Farò passare A rimuovere la prima parte Perché un vetro doppio E almeno la prima Dobbiamo rimuoverla Quindi non ci sono novità In questo momento però In verità ci sono novità Perché noi un dirigente Nel frattempo l'abbiamo Nel senso È chiaro che è una partita grossa Che è bene Che inizi il nuovo Ci sono novità Costantemente Nel senso che ci sono Lavori Stiamo verificando Quelli che possono essere Decapitolati Stiamo verificando Tutta la pratica Che però è inevitabile Venga gestita Venga gestita Da un nuovo dirigente Esattamente come tutti gli investimenti Che abbiamo intenzione di liberare Non dimentichiamoci Che questo comune Ha fatto un bilancio A dicembre E di conseguenza A brevissimo Noi abbiamo pianificato Un anno di lavoro Con i fondi ordinari A breve chiuderemo Il bilancio 2022 E potremo iniziare Dopo aver pulito Il fondo plurienare Vincolato Potremo iniziare A spendere Anche quello che è L'avanzo del 2022 Abbiamo un sacco Di cose da fare Abbiamo da pianificare Opere importantissime Imprescindibili Per la tutela L'ambiente La bonifica Abbiamo un sacco di cose Che dobbiamo Aspettarci Ma poi c'è anche Qualche soldino Per iniziare a pianificare Quello che era Il mio programma elettorale Perché fino ad oggi Stavamo agendo Con un senso di responsabilità enorme Abbiamo fatto una variazione Di bilancio Da 28 milioni In copertura Però ancora deve iniziare No 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 Adesso E il grosso delle opere Che il signore diceva prima Il bello Deve ancora arrivare Perché noi Con quei 28 milioni A ottobre Abbiamo coperto Tutti quelli che erano Nelle fase di progettazione Nel piano delle opere pubbliche Entro dicembre Come doveva essere Sono usciti quelle Che sono Le determine Per le progettazioni Adesso La legge L'esperienza Dice che in tre mesi Quattro mesi Ci rientreranno In pancia Le progettazioni Potremo andare A fare le gare Dei lavori Di conseguenza Ci stiamo facendo Un mazzo Assurdo Ma perché vogliamo Entro la fine Del nostro mandato Vedere tutte queste opere Realizzate Nel frattempo Abbiamo messo Benissimo Abbiamo messo Abbiamo fatto pulizia Oltre che Nel bilancio Su quelli che sono Tutte le opere Che Ci trovavamo Decine Centinaia di opere Di cui Si millantava Il fatto di Realizzarle E poi non venivano Stanziati i fondi Stiamo mettendo Veramente Un ordine Maniacale In questo momento È come Nel cambio stagione Quando si rimette a posto Tutto il guardaroba Cioè quella scusa lì Devo dire che stiamo Facendo pulizia Nei software Stiamo facendo pulizia Nelle procedure Però mi aveva fatto Una domanda diretta Superurp Un spettacolo Ci dicono Che è abbastanza Macchinoso Per un cittadino Non hai detto A lavori Inoltre L'obbligo di avere Lo speed Per l'accesso Preclude la possibilità Per uno straniero Di fare segnalazioni Non c'è l'obbligo Le informatiche elevate Che mentre rispondono al telefono Il cittadino non se ne accorge Ma stanno compilando Delle FAQ Cioè tutte le domande Che vengono fatte Che non hanno bisogno Di un riscontro All'interno dell'amministrazione Se la troveranno Ci vogliono mesi In alcuni casi anni Per essere determinati Ma ogni Ad esempio Se uno entra e mette Nella chatbot Del superurp Nella chat La parola Tari La chatbot Già li risponde in automatico Dopodiché Se si vuole identificare Che è una cosa Per noi essenziale In funzione del fatto Che così facendo Lui si trova Tutta la storia Delle sue segnalazioni Delle richieste Ma non solo Troverà anche tutti i servizi A lui dedicati Mi auguro E questo è un progetto importante Che da lì Si possa pagare L'Atari Si possano pagare Le concessioni cimiteriali Tutti gli avvisi Personalizzati In termini di notifica Cioè quello che notifico Te lo faccio arrivare Anche all'interno Del superurp Superurp Non è il sitarello Forse la gente Non ha ancora capito Ma perché giustamente Non abbiamo ancora Si sta iniziando ad usarlo Ma perché Essendo un progetto Incrementale Lo stiamo Pian piano Liberando In tutte quelle Che sono le sue Possibilità Ma il progetto è ampissimo E come detto Cento volte In riunioni Magari a palazzo Il mio scopo ultimo Quando sono arrivato lì La gente chiamava E non si rispondeva Adesso invece Scusa Pronto Buonasera Buonasera signora Ci dica Ascolti Sono Emilia Da Tranzano Sul Naviglio Vi sto ascoltando Curiosamente Dica Perché Il sindaco Non so di quale paese Di Como signora Di Como Che bello Sta elencando Sta elencando cose Che noi Degli altri paesi Ma Viviamo insieme In Italia Sta dicendo Che le avete già Signora Ci sta dicendo Che Il governo Fa quel che vuole Il sindaco Fa quel che vuole Le regioni Fanno quel che vogliono Noi Sentiamo Però per noi Per noi È arabo A meno Per me è arabo Quello che sta elencando Mi scusi La interrompo Grazie Mi scusi La interrompo Grazie Forse è arabo Anche perché Se in realtà Non è Comasca Magari qui Le risposte Sono più Incentrate su Como Però grazie Se vuole Effettivamente Forse Sono più Incentrate su Como Arabo Nel senso che Non lo capisce Arabo Perché è avanti È un sogno Non si è capito Via Bellincona Sindaco Posteggi selvaggi Nella zona di Monte Olimpino Beh adesso però Nel senso Io ricevo Tutto il contrario Di tutto Nel senso che Abbiamo mandato in giro Un ausiliare della sosta Che sta martellando Nelle zone tipo La via Milano Alta Che sta mettendo Un po' in ordine Tutte le situazioni E si stiamo muovendo In maniera tale Da andare a Colpire Quelle situazioni Che sono incancrenite Ogni volta che vengo qui Mi si dice Macchine con le quattro frecce In via Milano Alta Stiamo facendo pulizia E quindi Parte la pulizia Cosa arriva al sindaco Centinaia di mail Ah ma cos'è Fate cassa Andremo anche in via Bellinzona Siamo passati da Ponte Chiasso Perché ci sono degli aspetti Che puoi tollerare Altri che non puoi tollerare La verità però È che se per decenni Ti hanno consentito Come quello svizzero là Che veniva in centro da decenni Di fare quel che volevi In una zona Poi arriva qualcuno Che inizia a mettere ordine La verità è che L'obiettivo è Innanzitutto La mia amministrazione Parla di dare più parcheggi E stiamo facendo degli studi Esattamente come Il passaggio all'Aler Di 700 immobili Non lo fai in una notte E anche i parcheggi Di cui stiamo avendo Non si fanno in una notte Purtroppo siamo in chiusura Un flash Se c'è una persona in linea Se ha una domanda flash Buonasera Buonasera Senta proprio una domanda flash Mi vergogno Anche della domanda Rispetto a tutti i problemi di Como Como è una città turistica È una città la quale Quando si entra in barca Nel porticiolo Sulla destra c'è Come si suol dire C'è la luce verde Dove c'è il monumento Quello che è stato fatto Sulla diga Quale monumento? Live skin No siamo in chiusura Flash davvero però Flash davvero Sì 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 Allora entrando Sulla destra c'è la luce verde Sulla sinistra ci dovrebbe essere La luce rossa Non c'è da anni Grazie Grazie a lei E prendiamo questa segnalazione Le domande erano davvero tante Purtroppo come sempre Non riusciamo a rispondere a tutte Signora Patrizia Ci ha segnalato una situazione Davvero delicata Le assicuro che ora Giro tutto al sindaco Anche se non riusciamo A rispondere in diretta Una signora con un problema Legato proprio alle abitazioni Lo giro al sindaco Signora Patrizia Stia tranquilla che giro tutto al sindaco Per questa sera il tempo è terminato Grazie per averci seguito Grazie ad Alessandro Rapinese Che tornerà venerdì prossimo Grazie a voi Posso andare a casa La giornata è finita Grazie a tutti 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 Grazie a tutti